Innanzitutto ringrazio Rolli perché indirettamente ha fatto i complimenti e ha sottoscritto la mia amministrazione per la gestione del post-lockdown concretezza. In questo caso fatevi fare l'elenco di tutte le aree di smesse alle quali abbiamo messo mano in questi anni. Quindi la Cantone, la Censa, la Parma, quella di Via Dante, la zona dell'ex di Rassegno di Via Varese, l'ex Petri, quella di Via Pola, l'area di Via Volta, l'area di Via San Pietro, l'ex Vietreria e l'ex Forte Vallo. Ecco sono aree di smesse dove sorgeranno 5 nuovi supermercati, quindi saronesi sappiate che se sarò sindaco io nei prossimi 5 anni ci saranno 5 nuovi supermercati in città non autorizzati dal sindaco Aerovi ma autorizzati dal sindaco Pagione. Ho confermato che non c'è nessuna intenzione non soltanto di chiudere l'ospedale ma nemmeno di ridurre le funzioni, anzi di rafforzarlo e gli investimenti che abbiamo portato a Saronno per il nostro ospedale sono lì a dimostrarlo. Direi che la prima cosa che dico ai cittadini il 4 e il 5 ottobre torniamo a votare. Allora anche qui fare delle azioni su certe cose quello che sia molto sgradevole e scorretto, faccio politica da tanti anni non ho mai fatto, non ho mai giocato al mercante in fiera. Quindi su queste cose per cortesia non le sai, quindi per cortesia non fare la... Ma non ti sei reso conto che i cittadini di Saronno dalla stampa locale in tutti i modi possibili ti chiedevano dici cosa sta succedendo a Saronno? Nelle tue comunicazioni non si capiva niente, se no i cittadini saronesi non ti avrebbero continuamente chiesto facci sapere cosa sta succedendo. E gli rispondevi non tocca a me dirvelo, ve lo deve dire l'autorità sanitaria, ma non ti ricordi anche tu, ma non si possono fare queste cose, dai. Se le tue 75 cento e basse comunicazioni fossero state minimamente utili per rispondere non avrebbero continuato a farti la domanda ai cittadini di Saronno? Che hanno continuato a farti e continuano ancora oggi e continuano a rispondere, dai, su, cerchiamo di essere presti, Santa Pazio. Grazie.